che parla di vodka quindi chi non fosse munito di una bevanda alcolica se vuol brindare con noi può andare a prendere una vodchina e salvo la vodka baby are you ready for the sound walker baby oh oh yeah oh 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 i do i do i do Alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti